Musica Buonasera, ben trovati. Il tema di questa sera è un tema assolutamente importante, caldo, al centro di molte discussioni affrontato dalla stampa nazionale e destra in seguito ad una serie di casi davvero eclatanti. Con noi per affrontare questo tema il direttore sanitario dell'ATS della Montagna, la dottoressa Lorella Cecconami. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Un tema caldo, dicevo. Come mai all'improvviso è scoppiata questa bufera sulle vaccinazioni? Sì, è un tema molto caldo, le vaccinazioni è un tema anche molto complesso nella sua interezza. Perché si parla tanto di vaccinazioni? Io credo che non se ne è parlato così tanto come negli ultimi tempi, se penso agli ultimi 20 anni, 30 anni, così tanto. Per vari motivi. Uno perché adesso è caldissimo oggi perché ieri sera è uscito il decreto e quindi l'attenzione è ancora più alta. Ma è particolarmente un tema caldo perché oggi i genitori che devono fare delle scelte per decidere se vaccinare o meno il bambino, poi ovviamente la vaccinazione non riguarda solo il bambino ma riguarda anche l'adulto, si trovano in una fase in cui sono estremamente abbombardati da informazioni che arrivano da tante fonti, da tanti canali e quindi diventa sempre più complicato distinguere, se non si hanno i filtri giusti, quella che è la fonte più affidabile, la fonte più attendibile. Il Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri e quindi il 19 maggio ha licenziato un decreto che reintroduce l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica dopo averla tolta nel 1999, se non ricordo male. Che cosa ne pensa? Allora, l'obbligo scaturisce da una situazione di rischio perché fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di ritornare all'obbligo scolastico, meglio all'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica. Tanto più che si stava parlando invece di abolire l'obbligo vaccinale. Sappiamo che oggi esiste l'obbligo fino a ieri, quindi prima del decreto, solo per quattro vaccini che sono la polio, la difterite, il tetano e l'epatite B. Il Veneto in via sperimentale ha tolto l'obbligo vaccinale proprio per vedere se togliendo l'obbligo le coperture vaccinali fossero calate. In realtà c'è stato un lieve calo subito dopo e poi si è stabilizzato. Perché oggi siamo arrivati al decreto? Siamo arrivati al decreto perché le coperture vaccinali in Italia sono drasticamente diminuite, solo e soprattutto per alcuni tipi di malattie infettive, il morbillo, di cui magari poi nel corso della serata approfondiamo perché siamo in corso di un'epidemia di morbillo. Il giorno prima, quindi il 18 maggio, è stato pubblicato il rapporto OMS sulle coperture vaccinali mondiali ovviamente. Siamo gli ultimi nella regione europea per quanto riguarda le vaccinazioni del primo anno di vita, ma siamo dietro a dei paesi africani, dietro all'Algeria, dietro a Ruanda. Quindi, come dire, forse una riflessione, la dobbiamo fare, e la riflessione sui rischi che si corrono di fronte all'abbassamento delle coperture vaccinali ha portato all'obbligo. L'obbligatorietà vale per tutte le scuole da 0 a 16 anni. Come mai questa fascia? Questa fascia perché, beh, intanto coincide con l'obbligo scolastico, e quindi, come dire, si può imporre un obbligo laddove c'è di pari passo l'obbligo scolastico. In realtà ci sono molte società scientifiche, quelle della pediatria ad esempio, che insisteva perché l'obbligo arrivasse fino a 18 anni, quindi fino alla maggior età. Allora, in realtà poi è un obbligo diversificato. Io non ho ancora letto benissimo tutto il decreto nei dettagli, però è un obbligo che è molto stringente per quanto riguarda lo 0,6, quindi la frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, mentre dove non si può accedere se non si ha le vaccinazioni, se non sono state effettuate le vaccinazioni, da 6 a 16 anni invece è un obbligo diverso, nel senso che si può comunque frequentare la scuola, ma ci sono delle penalizzazioni e dei percorsi diversi, che poi entreremo nel merito leggendo un po' meglio il decreto, che cosa comporta, sanzioni amministrative, togliere la patria potestà, perché poi alla fine l'obbligo scolastico, se viene, l'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica, se viene applicato nella sua interezza, arriva fino alla patria potestà, quindi alla tutela della genitorialità. I protocolli vaccinali verranno rivisti? È importante anche capire quale durata hanno questi effetti dei vaccini, non sono eterni? Sì, allora, in Italia esiste il piano nazionale vaccini, che è stato appena deliberato, sono dei piani quadriennali, dove viene praticamente definito quello che è il fabbisogno vaccinale per il nostro paese, perché ovviamente il fabbisogno vaccinale cambia anche a seconda del contesto epidemiologico in cui si vive e con il quale ci si confronta. Dal piano nazionale vaccini, che ha come caratteristica fondamentale è quello di uniformare, cioè di dare un'offerta che sia omogenea su tutto il territorio nazionale, e l'altro aspetto importante è quello di inserire il piano nazionale vaccini all'interno dei LEA. Cosa sono i LEA? I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, per cui tutto quello che è ricompreso nei LEA è offerto in maniera gratuita dal Servizio Sanitario Nazionale. E anche questo è un aspetto importante, perché l'accesso al vaccino deve essere gratuito e non a pagamento, perché negli anni passati, dove c'era un'offerta diversificata da regione a regione, si è visto che laddove il vaccino era offerto in copagamento o a totale carico del cittadino, è chiaro che l'accesso al vaccino era minore rispetto a dove era offerto in maniera gratuita. Dal piano nazionale vaccini discende il piano regionale vaccini, che è stato appena approvato, con l'inserimento anche di nuove tipologie di vaccino, faccio l'esempio del meningococco B, che viene offerto per la prima volta quest'anno. E quindi vaccini che necessitano anche di un calendario vaccinale. Che cos'è il calendario vaccinale? Il calendario vaccinale ci dice, in base all'efficacia del vaccino, ma anche in base all'epidemiologia della malattia, se servono dei richiami, quando servono e in che fascia di età servono. Il decreto reintroduce anche dei controlli mirati, che non permetteranno né sviste né altro. Per poter accedere alle scuole sarà necessario presentare un libretto delle vaccinazioni, che saranno 12. Ci vuole spiegare quali, perché abbiamo detto prima, ad oggi le vaccinazioni obbligatorie sono 4. Quindi abbiamo detto l'epatite B, l'apoglio, il tetano e la difterite. Sì, sono quelle che attualmente sono nell'offerta, quello che dicevo prima, nell'offerta del piano nazionale e regionale della prevenzione, quindi del piano vaccinale. Sono praticamente, oltre alle 4 che ha appena citato, sono l'emofilo influenza, sono la pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco B e meningococco C. Sono quei vaccini che da quest'anno, anche in Regione Lombardia, sono offerti gratuitamente, e l'opneumococco, che sono offerti gratuitamente, che sono rientrati a pieno titolo nel calendario vaccinale. Ha parlato dell'epidemia del morbillo. Nella nostra provincia, quali sono i dati? Allora, perché è chiaro che l'88% dei casi di morbillo che si stanno riscontrando in Italia a seguito di questa epidemia, riguardano gli adulti, proprio perché i piccoli, rientrando nel calendario vaccinale, sono vaccinati. Esatto, e sono anche quelli non vaccinati, e quindi chiaramente sono quelli più a rischio in questo momento di circolazione del virus del morbillo, che è un virus estremamente contagioso, ha un R di 15, per chi non è del mestiere, vuol dire che per ogni caso indice se ne generano 15 secondari, quindi è un virus estremamente contagioso, e quindi è il rischio, ci sono anche molti bambini ricoverati in questo momento per morbillo negli ospedali, soprattutto nei grossi ospedali della regione Lombardia, ma la stragrande maggioranza sono bambini che o non sono stati vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose di vaccino. Quali sono le conseguenze? Le sequele possono essere importanti, noi si tende sempre a sottovalutare le malattie esantematiche, in modo particolare il morbillo, si dice sempre che sono malattie lievi, che è uno dei cavalli di battaglia anche dei movimenti antivaccinatori, è molto meglio fare le malattie piuttosto che fare il vaccino, la malattia è meno pericolosa del vaccino. In realtà il morbillo è una malattia insidiosa che può portare a una serie di complicanze anche importanti fino ad arrivare alle encefalite, con esiti anche invalidanti, permanenti per quanto riguarda poi il resto degli anni del bambino. L'antipapilloma virus, anche questo è stato accusato addirittura da alcuni ricercatori danesi di procurare più reazioni avverse di quante già non se ne conoscessero. Che cosa ci puoi dire su questo? Allora, per quanto riguarda le reazioni avverse dei vaccini, poi entro un po' nel merito dell'HPV, ci sono delle reazioni avverse da vaccino, come da qualsiasi farmaco che noi introduciamo, ma a volte anche dagli alimenti che mangiamo ci possono essere delle reazioni avverse. Allora, nella stragrande maggioranza dei casi sono reazioni banali, per lo più locali. La famosa tumefazione nel punto di inoculo, l'arrossamento, si può avere la febbre, nel bambino ci può essere pianto persistente, oppure può essere più sonnolento, più soporoso, diciamo. Quindi ci possono essere delle reazioni avverse, ma sono estremamente rare. In Italia, nel mondo, esiste un sistema di farmaco sorveglianza che può essere attivato anche dal cittadino, dove il medico è obbligato a segnalare qualsiasi reazione avversa, che ci permette, permette all'AIFA, ma all'Istituto Superiore di Sanità, di controllare tutti gli effetti avversi di post-immissione di qualsiasi prodotto farmacologico sul mercato, perché a volte questo ha portato anche al ritiro di alcuni prodotti. Pensiamo alla talidomide che aveva prodotto tutta una serie di bambini focomelici, l'abbiamo visto dopo l'immissione del farmaco, quindi dopo l'entrata in commercio, ma anche altri episodi. Per quanto riguarda invece l'HPV, quindi, no, per chiudere, volevo dire che il sistema di farmacovigilanza o farmacosorveglianza in Italia è attivo, funziona e ci restituisce delle informazioni che sono estremamente importanti per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti. Per quanto riguarda l'HPV, visto che la domanda era su quello, è un vaccino che è stato introdotto non recentemente, ma pensiamoci bene, perché è il primo vaccino che in qualche maniera protegge da un tumore. Guardi che la vaccinologia sta andando verso il controllo delle malattie infettive, perché è nato per quello, ma sta andando anche verso nuovi orizzonti, che sono vaccini per la prevenzione oncologica, l'HPV è uno di questi, prevenzione del tumore della cervice uterina, ma anche dei tumori dell'ano, del cavo orale, del pene, perché questi sono gli organi che sono colpiti dall'HPV. vaccino, l'epatite B è lo stesso un vaccino che protegge dal tumore del fegato, ma stiamo andando anche verso altri tipi di vaccino che cureranno la patologia oncologica e ancora meglio verso le patologie degenerative. Il Parkinson, si sta studiando un vaccino per il Parkinson, si sta studiando un vaccino per la celiachia, quindi un orizzonte a 360 gradi. Il mercato dei vaccini è un mercato di nicchia, non è un mercato vastissimo, eppure molti professionisti, molti suoi colleghi puntano il dito proprio contro di questo e quindi sostengono che tutta questa frenesia, questa corsa verso i vaccini sia, diciamo così, un metodo decisamente poco etico per sostenere il mercato. Sì, anche questa è una delle teorie dei movimenti antivaccinatori, la teoria del complotto, dove praticamente tutti i professionisti della sanità sarebbero d'accordo con le case farmaceutiche per, come dire, far vendere i vaccini. Quanti siete? Quanti medici ci sono? Sono circa 350 mila medici in Italia. Quelli contrari? Contrari sono circa 120, quindi come dire, non vedo questa... Quella è la nicchia. Quella è la nicchia, ma al di là, no, la nicchia sarebbe che tutti gli operatori del servizio sanitario fossero d'accordo con... Anche per non generare questi falsi... Esatto, i produttori ideologici. Io personalmente ho vaccinato in questo territorio per 20 anni più o meno, lavoro in Valtellina da 26 anni e adesso non faccio più direttamente vaccinazioni, ma le garantisco che non sono parte di nessun complotto. Porto però un dato che forse può far riflettere su quello che può essere il business delle case farmaceutiche. dati 2016 della spesa farmaceutica nella TS della montagna. Noi abbiamo speso 1 milione e 800 mila euro circa per l'acquisto dei vaccini a fronte di quasi 60 milioni di euro, dico 60 milioni di euro per i farmaci. Quindi, come dire, io credo che se vogliamo andare a vedere qual è il core business delle case farmaceutiche che forse non sono i vaccini. Vi è un caso che sicuramente ha fatto molto discutere o comunque può avere anche illuminato o sorpreso il caso dell'atleta paralimpica Bebe Vio. Fu colpita da una rarissima malattia dopo che i genitori, seguendo il consiglio di un pediatra dell'Asla, avevano deciso di non vaccinarla. Ecco, proprio lei è diventata testimone lattiva pro vaccini e urla appena può vaccinatevi. Assolutamente sì, Bebe Vio è stata colpita da meningite, da meningococcoci. La meningite, lo sappiamo tutti, è una malattia, soprattutto la meningite da meningococco, perché esistono vari tipi di meningite, alcune più blande, se vogliamo. è una malattia molto grave, una malattia che porta a morte con estrema facilità, ma porta nei sopravvissuti a degli esiti molto pesanti. Bebe Vio è un esempio di un soggetto che è sopravvissuto alla meningite, ma con degli esiti pesantissimi. Tutto questo poteva essere evitato con la semplice somministrazione di un vaccino, che è l'antimeningococcoci. Sulla meningite, si presenta un po' quello che è anche la contraddizione di questa fase un po' concitata sull'accesso al vaccino. Nel senso che oggi perché è calata l'attenzione e la possibilità dei genitori di scegliere di non vaccinarsi? Perché non c'è più la percezione del rischio della malattia. Oggi le malattie come la difterite, la polio, sono malattie scomparse. Noi non le vediamo. L'Italia è stata dichiarata polio fine nell'82. Quindi voglio dire, non vediamo un caso di polio da tanti anni. La difterite è ancora prima. Quindi sono malattie rare. E quando noi non si ha più la percezione del rischio di malattia, anche la nostra attenzione sulla prevenzione verso quella malattia sicuramente diminuisce. Cosa succede invece per la meningite? Basta un caso di meningite, magari anche non mortale, ma mortale fa ancora più clamore. Allora abbiamo richieste di accesso al vaccino. Come dire, laddove si percepisce di più il rischio, il pericolo, allora ci vacciniamo. Vi è una corsa alla prevenzione. Esatto. Abbiamo vissuto i primi mesi dell'anno 2017. Questa, diciamo, io la chiamo l'epidemia mediatica di meningite. Perché in realtà non c'era un'epidemia di meningite. C'erano dei casi di meningite che tra l'altro si verificano molto di più nella stagione invernale proprio perché è un batterio che si trasmette ce l'abbiamo nella mucosa del naso praticamente. Circa il 10% dei soggetti sono portatori del meningococco C, del batterio praticamente. E quindi negli ambienti confinati, ambienti chiusi, dove d'inverno si tende a ricambiare anche di meno l'aria, il rischio sale, aumenta la possibilità di contagio. Allora abbiamo avuto questi più casi, diciamo, di meningite che hanno veramente scatenato la corsa al vaccino regolarmente. La Toscana è un esempio. Un esempio dove in una zona della Toscana c'è una concentrazione di un maggior numero di casi e una delle richieste frequenti che arriva ai centri vaccinali è che devo andare in vacanza in Toscana, voglio fare il vaccino. Perché si percepisce il rischio. Laddove non lo si percepisce più si abbassa il livello di guardia e diceva bene, io posso anche non vaccinarmi perché tanto la malattia non esiste. Per cui, per quanto riguarda i bambini, l'antimeningococcoci viene somministrato ed è obbligatorio. È obbligatorio da ieri? È obbligatorio da ieri. Era somministrato e offerto gratuitamente già dal 2010 ai bambini nati veniva già offerto e noi abbiamo anche una buona copertura vaccinale. Ecco, proprio negli ultimi mesi l'ATS non aveva iniziato ad effettuare delle vaccinazioni mirate a chi ne faceva richiesta aprendo degli sportelli? Assolutamente sì. Dall'inizio dell'anno la regione Lombardia anche sollecitata probabilmente da questa chiamiamola epidemia mediatica di meningite ha aperto intanto ha applicato il nuovo calendario vaccinale che vuol dire, così lo chiariamo l'offerta del meningococco B poi magari spieghiamo i ceppi del meningococco B a partire dai nati 2017 quindi a tutti i nuovi nati nell'anno 2017 e da gennaio 2017 viene offerto insieme ad altre vaccinazioni anche il meningococco B viene offerto, veniva già offerto il meningococco C già dal 2010 adesso viene offerto o il richiamo del meningococco C o il quadrivalente che comprende l'A, il C l'Y e W135 che sono altri 4 sierotipi di meningococco e poi c'è la possibilità dell'offerta quella che forse a cui faceva riferimento lei in copagamento per cui sono stati aperti dei centri o meglio degli ambulatori dedicati per l'offerta in copagamento per cui i bambini che non sono stati vaccinati con questo vaccino verranno sottoposti da settembre? Allora, ci sono diverse diverse tipologie di offerta in questo momento è gratuito fino a 18 anni è chiaro che se un bambino ha già fatto il meningococco C da piccolo si offre il quadrivalente perché funziona da richiamo per il meningococco C e anche per gli altri copre anche per gli altri 3 sierotipi per gli altri 3 ceppi Chi invece non ha fatto il C? Si può fare il C e si può fare il quadrivalente dipende dall'età del bambino adolescente perché ovviamente quando parliamo di 16 anni parliamo di adolescenti certo è offerto gratuitamente fino a 18 anni quindi al di là di quelli che sono i bambini piccoli dove il calendario è ben definito per ognuno che ha un calendario in questo momento anche diversificato viene fatta la valutazione al centro vaccinale e viene offerto la tipologia di vaccino più adatta per quella fascia di età tenga conto che in questo momento nel nuovo calendario vaccinale chiameremo anche a partire dai nati 2001 e 2002 per il richiamo per il quadrivalente ecco tra i vaccini con maggiori contraindicazioni quanto ho letto vi sarebbero i vaccini esavalenti dico bene? l'esavalente è quello che noi utilizziamo intanto diciamo cos'è l'esavalente l'esavalente è un vaccino che contiene gli antigeni per sei malattie che sono le quattro obbligatorie quindi polio difto tetano epatite B poi contiene l'apertosse e l'emophilus influenza che non ha niente a che vedere con l'influenza lo dico ma è un batterio che può essere responsabile anche questo di una forma di meningite che colpisce soprattutto i bambini tra 0 e 5 anni di vita e questo è il vaccino che viene offerto nel primo anno di vita quindi è il vaccino dal 61esimo giorno compiuto diciamo dal bambino con tre dosi nel primo anno di vita ed è quello che è sempre offerto da tanti anni allora in realtà non è gravato da più effetti collaterali o da reazioni avverse maggiori rispetto ad altre tipologie di vaccino sulle reazioni avverse l'ho detto prima è esattamente la stessa cosa vorrei specificare entrare un pochino in più nel dettaglio di questo numero di vaccini una delle domande più frequenti e anche più attenzionata è quella di troppi vaccini tutti insieme in un bambino troppo piccolo perché iniziamo a vaccinare a chiamare al 61esimo giorno di vita quindi due mesi e poco più in realtà il sistema immunitario del bambino è un sistema immunitario capace di ricevere ma molti molti antigeni di più rispetto a questi che stiamo dando dirò anche di più che se noi non avessimo un sistema immunitario non avessimo avuto un sistema immunitario così bravo tra virgolette oggi l'essere umano non sarebbe arrivato perché siamo circondati siamo sempre stati circondati dai patogeni e quindi se non avessimo il nostro baluardo il nostro sistema immunitario a proteggerci oggi non ci sarebbe stata nemmeno l'evoluzione della specie umana gli antigeni che sono contenuti dentro il vaccino sono pochissimi oggi anche dentro l'esavalente rispetto a vaccini che usavamo qualche anno fa faccio un esempio per tutti l'apertosse usavamo negli anni 90 un vaccino cosiddetto cellulare che dava anche era gravato anche da effetti collaterali un pochettino da reazioni non le chiamerei nemmeno effetti collaterali da reazioni avverse un pochettino più marcate con pianto veramente inconsolabile per diversi giorni reazioni locali più vivaci oggi abbiamo un vaccino a cellulare più purificato che contiene pochissime proteine che sono quelle antigeniche e quindi noi in realtà stiamo dando molti meno antigeni con i vaccini di oggi rispetto al passato rispetto ai primi vaccini che si usavano negli anni 90 perché oggi riusciamo a produrre anche con delle tecnologie avanzate dei vaccini che sono sempre più come dire più efficaci ma se vogliamo dire meno aggressivi ecco se la vogliamo mettere ha parlato prima di ceppi per quanto riguarda la meningite quanti sono e quali pericoli si possono correre con questi allora i ceppi sono tanti ma quelli che circolano in Italia prevalentemente sono il C e adesso comincia a circolare il B cosa che prima non circolava è un caso in Valtellina proprio in questo momento di un ricovero per meningite possiamo rassicurare assolutamente sì perché non è da meningococco ma è da pneumococco da streptococco pneumonie che è un altro batterio che può essere responsabile di meningite ma che non è contagioso e quindi si limita al caso che in questo momento ha avuto l'incontro diciamo con il patogeno e ha sviluppato la malattia tanto che noi non abbiamo messo in atto nessuna misura di profilassi le misure di profilassi le mettiamo in essere quando abbiamo un caso da meningococco quello di cui dicevo prima meningococco C o meningococco B allora in quel caso lì andiamo a profilassare tutti i contatti stretti tutte le persone che in qualche maniera sono venute a contatto con la persona che ha sviluppato la malattia e che potrebbero in qualche maniera sviluppare a loro volta la meningite quindi facciamo la chemioprofilassi in questo caso parliamo di chemioprofilassi con l'antibiotico per 48 ore quindi questo per dire che i ceppi circolanti del meningococco sono il C in passato era quasi esclusivamente C oggi circola il B ma abbiamo anche già qualche piccolo caso isolato di ceppi Y o W che in realtà raramente circolavano in Italia ma perché? perché oggi non ci sono più confini la circolazione delle persone e di conseguenza dei patogeni è aumentata lo dicevo ieri sera che c'è stata una serata sulle vaccinazioni a Bormio fino a qualche anno fa ma credo sia esperienza di tutti capitava rarissimamente di vedere un bambino di tre mesi in aereo oggi viaggiare e trovare bambini che fanno anche dei viaggi lunghi e vanno anche in altri continenti è abbastanza frequente quindi persone che arrivano dall'Africa o da altri paesi e che portano con sé chiaramente e noi che andiamo e che portiamo quindi voglio dire oggi le barriere quando qualche anno fa potevamo dire anche a qualche bambino non vaccinato che non si vaccinava magari per un problema di salute perché ci sono dei bambini che non possono vaccinarsi perché hanno la leucemia perché hanno malattie che provocano immunodepressione potevamo dire state tranquilli perché comunque c'è una copertura vaccinale così alta che anche chi non è vaccinato la famosa immunità di Greggie anche chi non è vaccinato può in qualche maniera stare abbastanza tranquillo oggi le comunità non sono più così confinate e quindi come dire attenzione perché da un lato non abbiamo più questi confini ben delimitati ma nello stesso tempo si stanno abbassando le coperture vaccinali vaccini anti-influenzali ne sentiamo parlare tanto vengono consigliati agli anziani alle persone più a rischio chi è in contatto con più persone ma sono efficaci? Allora l'influenza è un virus un po' cattivello come si dice nel senso che è un virus che muta in continuazione motivo per cui ogni anno dobbiamo rivaccinarsi ma anche rivaccinarsi con un vaccino che cambia la sua componente antigenica in funzione delle modifiche delle mutazioni che subisce il virus e quindi il vaccino viene costruito ma come dire insegue le mutazioni del virus e l'efficacia è sicuramente un vaccino efficace spesso però anche qua si sente dire ho fatto il vaccino ma poi mi sono ammalato lo stesso attenzione perché spesso si confonde l'influenza con le sindrome similinfluenzali che nella stagione invernale sono ovviamente frequentissime ma che non hanno niente a che vedere con l'influenza allora si tende a dire che il vaccino non è stato efficace oggi abbiamo un vaccino che veramente protegge ma soprattutto è offerto gratuitamente a chi è portatore di patologie a rischio che anche in quei soggetti che sono i diabetici i cardiopatici broncopneumopatici quindi tutti i soggetti che hanno delle patologie serie una influenza quindi lo sviluppo della malattia può portare a delle complicanze serie che talvolta esitano possono essere anche fatali motivo per cui è prevalentemente indicato nei portatori di patologia ma anche nei familiari che stanno intorno al soggetto a rischio che possono essere fonte di contagio e lo stesso vale per gli operatori sanitari anche gli operatori sanitari dovrebbero vaccinarsi di più perché possono essere loro anche una fonte di contagio per chi è ricoverato all'interno di una struttura sociosanitaria o sociosanitaria Dottoressa Cicconami cos'altro aggiungere perché questo confronto sulle vaccinazioni anziché sembrare un simposio tra medico scientifico oggi sembra più uno scontro da stadio per convincere anche chi ancora è attanagliato dai dubbi Allora guardi io la potrei sintetizzare poche parole però tre o quattro concetti magari forse è il caso di dirlo Allora uno le malattie infettive non sono scomparse sono tenute sotto controllo dalle vaccinazioni abbiamo già avuto esperienze dei paesi europei la disgregazione dell'Urs ha provocato ricomparsa di malattie come la difterite vediamo la polio in Siria insomma le malattie non sono scomparse diciamo che le abbiamo tenute sotto controllo a bada con i vaccini questo movimento pro contro credo che non faccia bene a niente io ritengo che la vaccinazione sia un'opportunità di salute deve essere fatta come scelta consapevole e allora qui torna la fonte di informazione oggi l'informazione corre molto veloce corre sui social e io dico sempre parlo molto con molti genitori che mi chiedono eccetera dico sempre la scelta è vostra deve essere consapevole ma verificate verificate sempre la fonte da cui attingete le informazioni perché che sia attendibile ma come dire la scienza la medicina lavora sulle evidenze scientifiche l'introduzione di un nuovo farmaco di un nuovo schema chemioterapia di una nuova chemioterapia oggi abbiamo i farmaci biologici la medicina veramente ha fatto dei passi gigante e io penso che quello che ho studiato vent'anni fa oggi tre quarti di quelle cose che ho studiato sono vecchie perché il progresso è veramente tanto allora la medicina si basa su evidenze scientifiche quando noi decidiamo di fare un nuovo protocollo terapeutico è perché ci sono degli studi dietro che hanno dimostrato quel protocollo più efficace rispetto ad altri allora io dico sempre ai genitori trovatevi un medico di fiducia di cui ovviamente con cui avete un rapporto perché bisogna ricostruirla la fiducia tra i cittadini e i sanitari il mondo della sanità sicuramente è una delle cose da fare come anche è da ripensare il ruolo della comunicazione perché è importante e verificate sempre la fonte oggi i social sono pieni di bufali lo sappiamo anzi sono allo studio anche dei meccanismi per segnalare che quella è una bufala non so come faremo o come farà la tecnologia a discriminare come dire la notizia vera da quella falsa la fake news esatto bravissima però io invito veramente i genitori prima di fare una scelta di informarsi ma di informarsi seriamente e poi di riflettere su una cosa che secondo me a volte la trascuriamo i genitori stanno facendo una scelta per un'altra persona che in quel momento non può scegliere e allora attenzione perché io ho avuto anche modo di parlare con dei genitori che hanno scelto di non vaccinare ma che poi hanno avuto l'evento fatale e allora non è è raro spero che sia sempre più raro ma dopo è difficile convivere con i sensi di colpa grazie dottoressa Cicconami grazie a voi e spero di avere dato un contributo per una scelta più consapevole grazie anche a voi da casa che ci avete seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti